Un nuovo prestigioso riconoscimento è andato a Monsignor Antonio Pitta che il 25 gennaio 2021 è stato nominato dal Santo Padre consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede, soddisfazione per la Diocesi di Lucera Troia con il suo vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano. Monsignor Antonio Pitta, presbitero della Diocesi Lucerina, è il prorettore della Pontificia Università Lateranense, l'Università del Papa, nonché molto apprezzato docente di sacra scrittura. L'incarico ricevuto evidenzia la considerazione accademica e la stima che Papa Francesco e la Santa Sede nutrono per lui.